Salve a tutti amici di Android Blog, siamo arrivati... Ci possiamo riuscire a bloccare il video, allora a parte problemi tecnici, continuiamo a averne, come dicevo la volta scorsa, una trasmissione in beta test tutte le volte, siamo di nuovo da Google+, da Hangouts, ci siamo tutti e due... Ciao a tutti da Alessandro e da Matteo, quindi siamo, secondo episodio di questa ennesima versione, siamo al settimo dell'Androidcast, iniziamo ad avere numeri importanti, siamo seri... E parliamo di un secondo episodio in realtà, parliamo di un secondo episodio relativo a quello che abbiamo già parlato di personalizzazione. Partiamo a gamba tesa questa volta, pochi giri di parole di introduzione, chi ha già seguito l'episodio ancora in vecchio formato riguardo la personalizzazione, hanno parlato del fatto di cosa si può fare, diciamo, con lo stock, diciamo, con il fatto di quello che si può trovare sul market, personalizzazione, in brevissimo. Cioè, prendere, aprirvi il vostro Android e iniziare a farci giochini vostri tra launcher, sfondi, suonerie, tastiere da scaricare. Detto questo, lascio la parola al nostro esperto di fiducia. Se magari! Diciamo che la puntata di oggi capita a fagiolo, perché in questa settimana sul nostro blog è comparsa la prima custom ROM per Asus e Pad Transformer, fatta in collaborazione, cioè, fatta principalmente da un utente che è da un po' che smanetta con codici sorgenti e quant'altro, che si chiama New Fabio, che insieme al nostro Andrea Venditti si è adoperato per creare questa custom ROM. La custom ROM la trovate sul sito. è, diciamo, il livello di personalizzazione probabilmente più radicale. In questo caso, diciamo che la personalizzazione grafica non è così evidente, se non per quanto riguarda l'animazione di boot, che l'ho eseguita io, trovate sul nostro blog una guida abbastanza dettagliata, spero di essere riuscito a spiegare bene tutti i passaggi per potervene creare una in casa. e ci sono presenti all'interno di questa ROM alcuni sfondi dedicati al nostro blog, però la personalizzazione più, diciamo, più importante è, non si vede, rimane all'interno del codice. Sono stati aggiunti determinati script, sono stati tolti determinate parti della ROM che sono, diciamo così, inutili, creano solo dei grossi rallentamenti. è stato inserito un kernel che dà la possibilità di avere un overclock fino a un giga e sei e con tutte queste migliorie ci troviamo davanti a un dispositivo che, testandolo, ci rendiamo immediatamente conto che non è neanche parente di quello che è all'inizio. Migliora decisamente la fluidità, migliora decisamente tutto l'utilizzo del sistema Onicomb in sé. E questa è una bella personalizzazione. Con poco riusciamo ad ottenere tanto di più. Io adesso l'ho sempre utilizzato da quando ce l'ho il pad con un lieve overclock, senza andare su grossi gigahertz, l'ho sempre tenuto intorno a giga e due, giga e quattro. Da quando abbiamo a disposizione questa ROM non l'ho praticamente mai overclockato, lo sto tenendo sempre a un giga e non sento assolutamente la mancanza dell'overclock. la ROM è veramente fluidissima, senza scatti, senza lag risponde immediatamente e va veramente bene. E direi che questo è un tipico esempio di personalizzazione riuscita bene. Facciamone il bandiero di quello che è stato fatto in casa. E beh, il mio lavoro ce l'è stata. La cosa giusto per fare un attimo di equilibrio con quelli che praticamente ci proponiamo anche, nel senso che finora abbiamo detto tutto quello che c'è di buono nella custom ROM sfornata dal nostro blog, ma la cosa importante è dire, estraggo un attimo le parole che hai detto, giusto per chi segue l'Androidcast, che magari non lo mastica tutto quello che si è detto. Ci sono delle parti importanti all'interno di una ROM, nel senso che si va a cambiare tutto quello che sono il funzionamento dietro lo schermo, mettiamola in questo modo. La parte che fa la parte del leone all'interno di tutto questo è il fatto che vada a cambiare la parte di kernel, ossia quella cosa che fa muovere tutto quello che è dietro la finestra del sistema operativo Android. Per cui è tutta quella cosa che alla fine ci dà più frequenza, ci dà più prestazione, ci toglie i lag. La frequenza è tutto ciò che ci permette di fare un calcolo più rapido delle cose che andiamo a fare, quindi il multitasking che risponde meglio, per esempio, oppure il fatto che durante l'applicazione non ci sia il fatto di un arresto improvviso, cosa che potrebbe capitarvi spesso se non riesce a calcolare, non riesce a liberarsi la memoria in fretta al dispositivo. Altre cose, discorsi vari, sono sempre gli stessi, sono migliorie che portano a una prestazione superiore rispetto a quello che è la scrittura del codice del sistema operativo da parte del produttore proprietario, per cui qualcosa di meglio di quello che potrebbe essere offerto, oppure un suggerimento per un futuro firmware da scaricare via OTA. Questo è l'effetto comunità di cui Andy Rubin, tutte le volte che ci sono interviste o cose varie, ci propugna sempre, ed è anche un pochettino quello che è la bandiera di Google. Per cui sono cose da dire e da riaffermare ogni volta, cose che dalle altre parti non sentite. Assolutamente. Anzi, con altri sistemi operativi l'utente è decisamente l'ultimo a ruota del carro, cioè difficilmente vengono ascoltate le voci di chi utilizza poi effettivamente il dispositivo. Bisogna dire che nel mondo Android questo invece capita molto, ma molto spesso e molto più spesso di quello che si possa pensare. Si è sempre saputo e si sa, si riconosce spesso, che le grandi case bazzicano i forum e leggono i topic che riguardano i propri dispositivi per capire dove sono i problemi più grossi e per cercare di porvi rimedio. Devo dire che in questo caso, parlando di Asus, con le Transformers ha già fatto un ottimo lavoro. È stato in assoluto tra le prime a rilasciare l'aggiornamento a Onicom 3.1, che è stato già un grosso passo avanti. Ha dato la possibilità comunque di mettere mano alle ROM del Transformer. Ha rilasciato adesso un aggiornamento che è uscito in questi giorni che migliora già di per sé l'audio, la fluidità. Il problema dell'audio è un problema che diciamo che è venuto fuori quasi fino all'inizio, il fatto che non siano ben bilanciate le casse, che ci siano un po' di problemi. Ha cercato di risolvere quel problema lì. Ha fatto insomma un discreto lavoro ed è di questi giorni la notizia che ha pubblicato su Facebook che sta già lavorando, è già in test l'aggiornamento a Onicom 3.2. Quindi sarebbe probabilmente il secondo dispositivo dopo l'Oxuma ad averlo. Quindi tanto di cappello ad Asus. E a livello di personalizzazione il divertimento c'è sempre. Quando si è in mano a un giocattolo del genere non si può far altro che divertirsi. Esatto. Poi una cosa fondamentale che bisogna sempre cercare in una custom ROM magari è anche il fatto che sia aggiornata all'ultima versione di Android. Anche perché a differenza di quello che è lo stock che viene offerto dal proprietario, questo poi è comune a quello che faremo anche di terza puntata che sarà relativamente alle ROM per smartphone. Le custom ROM sono basate sull'aggiornamento più disponibile al momento. Diciamo che si può sniffare nell'area il fatto che ci saranno tutti i vari sviluppatori che si divertiranno con la 3.2 di rilascio di questi giorni. Per cui siamo in attesa, si dice. Ormai c'è solo da aspettare poco perché le SDK sono pubbliche quindi è soltanto questione di tempo per vedere già le prime 3.2 in azione. Sperando che ci siano miglioramenti per tutti perché il changelog di base diciamo che riguarda più che altro la compatibilità con altri dispositivi a parte lo zoom delle applicazioni e qualcosa. Vediamo se sono state limate alcune parti del codice che davano qualche piccolo problema di fluidità, di reattività e di quant'altro. Certo che se sarà in scala a quello che è successo tra l'aggiornamento tra la 3.0 e la 3.1 i risultati si vedranno perché il cambiamento è stato abissale. Ok, diciamo che più o meno abbiamo indagato tutto quello che c'è da dire e poi in generale l'argomento custom ROM si andrà a completare parlando di smartphone. Abbiamo voluto anticiparlo come vi ho detto all'inizio perché la notizia è calda per cui ci andiamo a nozze. La prossima volta, che adesso non so bene quando, però intanto siamo usciti ad essere regolati meglio da una settimana all'altra, formato standardizzato, speriamo. detto questo, la parte più importante vi ricordiamo di leggerci sempre sul nostro blog underblog.it, rinnovatissimo, funzionantissimo, velocissimo, come vi ho detto spesso adesso dopo i grandi cambiamenti, per cui vi salutiamo. Io vi invito anche, se avete richieste particolari riguardante le guide, visto che ormai comunque sono diventate la mia passione dopo le varie che ho fatto in questi giorni, se avete richieste particolari potete mandarci un'email, contattarci, iscriverci su Facebook o dove volete che vedrò per quanto mi è possibile di soddisfare le richieste di tutti. Tanto la passione c'è, il divertimento è tanto, quindi lo faccio volentieri. Benissimo, quindi un saluto. Un saluto a tutti, alla prossima. Ok. Ciao ciao. Ciao.